Forse a questo punto è più comprensibile, ora che abbiamo visto questa qualità delle pieghe, è più comprensibile l'importanza che per un pittore come Lanfranco, che torna a Roma dopo aver visto Rubens, le pieghe di una deposizione come questa che Correggio aveva dipinto nel Duomo di Parma attorno al 1524, nel 1524 finisce, che decorava la Cappella del Bono, che sicuramente Lanfranco aveva bene studiato, sia direttamente, sia attraverso l'incisione del suo maestro Agostino Carracci, il quale, da incisore, aveva avuto il problema di come tradurre i toni così complessi di Correggio, animati per di più da passaggi di sfumature estremamente raffinati, tradurle in artificiosi segni neri su fondo bianco. E facendo questa traduzione, Agostino Carracci aveva inevitabilmente consolidato, cioè dato solidità, alla pittura di Correggio trasformandola in un effetto, in qualche modo scultoreo, o perlomeno che diventava scultoreo per il giovane pittore che dovesse studiare Correggio attraverso questa incisione a bulino di Agostino Carracci. Quindi nella mente del Lanfranco di ritorno a Roma nel 1612 c'è una serie di studi rifatti e rinnovati sulle esperienze nel frattempo acquisite. Quindi il Correggio come lo citava Bellori, poi il Correggio rivisto e Correggio studiato attraverso il consolidamento delle incisioni, insito, implicito, nelle incisioni di Agostino Carracci. Poi rimeditato, ristudiato attraverso Rubens, quindi con una forza di pittura che addirittura diventa scultorea, ma di una scultura che chiude in se stessa il movimento, qualità che nella Roma dal 1618 in avanti è pienamente rappresentata da Bernini e che è una qualità sicuramente diversissima da quella di Guidoreni. Ecco qui l'aurora del 1613 e 14, diciamo, del 1614, che Guidoreni aveva dipinto sulla volta del casino del Cardinale Borghese a Montecavallo, appunto il casino Rospigliosi, e che sicuramente ha una grande amplificazione di panneggi, di mantelli, di panni e così via, però talmente diversa dalla forza scultorea di Lanfranco, che si capisce che Reni non solo non vuole puntare alla emozione sensuale dell'osservatore, ma vuole illustrare un concetto che sia più elevato che non questa reazione fisica, sensuale, come l'abbiamo vista in Lanfranco, e per questo evita questi, come dire, questi strattonamenti di chiaro e di scuro e questa muscolosità di contrasti tra emergenze plastiche e ombre estremamente risentite, come invece fa Lanfranco e come faceva Rubens, con tutt'altra ovviamente gamma di colori alla Vallicella, e forse proprio per questo i due grandi quadri del presbiterio della Vallicella erano risultati così difficoltosamente comprensibili, perché nella Roma immediatamente successiva, lo, per dirla un po' in termini semplicistici, lo stile era piuttosto questo, che non uno stile capace di rinunciare a questa astrazione grafica, che poi è l'astrazione della idea che trascende il senso, ben diversa rispetto a quello che succede invece qualche decennio, qualche lustro, non decennio, qualche lustro dopo. Quindi vista un po' più da vicino, la composizione di Lanfranco già ci ha rivelato un elemento, che è questa plastica che nel suo risentimento scultoreo riesce ad afferrare la capacità di esprimere il movimento, non di raccontare il movimento come se fosse un soggetto poetico, ma di darne l'impressione, di darne l'espressione e suscitarne la conseguente emozione, e quindi già ci fa capire che c'è qualche cosa di diverso. Ma adesso avviciniamoci a questa cappella Sacchetti. Eccola. Se ci si avvicina, e a mano a mano che ci si avvicina, ecco che compare in alto questo Cristo in gloria, che è proprio, non voglio perdere parole su questo, ma che è proprio fortemente, anzi testualmente, ricavato dallo studio di Correggio, e soprattutto ha una inclinazione compositiva e una grafia che presuppone la presenza dello spettatore e dello spettatore che si avvicina, quindi decisamente del fedele. Ma se questo fedele abbassa lo sguardo, credo che a questo punto dovrete supplire di fantasia, perché immagino che ci siano tre grandi spazi neri, ma quello che voglio indicarvi è che per il fedele, o per il visitatore oggi di San Giovanni dei Fiorentini, a questo punto quel calvario e quell'orazione nell'orto che abbiamo visto fotografata di fronte in un libro monografico su Lanfranco, e così vedremmo, se fosse in un museo, il visitatore della chiesa lo vede invece di sbieco, angolata. E non so se questo, metterlo in prospettiva, abbia dei significati o meno. In genere, quando non si sa una cosa, conviene leggere le fonti. E proviamo a leggere il numero quattro. È sempre Bellori che parla. Ma il lume principale che usò il Lanfranco in questa opera deriva dalla gloriosa umanità di Cristo dipinto nel lanternino, che ha il campo risplendente, e si diffonde sopra le figure più e meno secondo i gradi che si avvicinano e si allontanano, sicché, frangendosi la luce dal sommo, sparge sopra di esse i suoi raggi, conforme la degradazione, con tal modo e misura fra i termini del maggior lume e del maggior oscuro opposti, che forma la suavità e il rilievo dei corpi in somma unione delle parti, e senza divisione si distinguono insensibilmente. In tal modo, fra quei spaziosi campi, ogni figura ha rilievo, ma svaniscono li contorni, li dintorni, mostrando solo qualche termine di colmo, senza alcun profilo di superficie. Onde con ragione, questa pittura, è stata rassomigliata ad una piena musica, quando tutti li tuoni insieme formano l'armonia, perché allora non si osserva minutamente particolar voce alcuna, ma piace il misto e l'universale misura e tenore del canto. E siccome in questa sorte di musica si richiede all'orecchio una maggiore distanza, così il colore lontano si unisce e riesce suavissimo all'occhio. Ecco, allora se gli rimettiamo la distanza, quella distanza che un museo non consente, quella distanza che una pagina di libro non consente, è possibile che queste cose, queste qualità che Bellori dice riferendosi a un altro dipinto di Lampranco, non a questo, come avrete capito, cominciano a funzionare tutte. Ed ecco, per quello che spero si riesca a vedere, che quell'effetto di composizione che non funzionava, di piano contrastante tra il primo piano e lo sfondo, di composizione a blocchi, di diagonali che ci sono ma non fanno dinamica, braccio di Giovanni che cerca un aggancio con il piano retrostante della salita al Calvario, senza avere efficacia, tutto ritorna al suo posto, perché se obliqua, se angolato è anche il punto di vista dell'osservatore, allora non solo il buco della orazione dell'orto scompare, non solo la insopportabile fascia centrale che faceva dire ad ogni studioso che onestamente abbia sotto gli occhi la fotografia, che la composizione è ancora acerba rispetto ad un'articolazione barocca che ci faccia capire che cosa intendeva Bellori quando diceva che Lanfranco praticava l'unione delle figure, ma garantendo questo punto di vista diagonale, tutto entra in un'articolazione che veramente enfatizza la forza compositiva e dinamica della diagonale e ci fa capire anche quanto Lanfranco sappia prendere da Correggio certe pose di figure, come per esempio quella Maddalena che qui vedete appena, ma che in realtà ha una funzione compositiva Correggesca estremamente importante ed è la funzione grosso modo di questo compianto della Cappella del Bono, che anche questo alla meravigliosa Galleria di Parma noi vediamo così di fronte e così anche nei libri, capendo solo parzialmente la funzione della Maria alla estrema sinistra del dipinto. Ma dobbiamo immaginare che Lanfranco andando a studiare la Cappella del Bono nel Duomo di Parma il compianto lo vedeva più o meno così. Sono io che mi sono messo in una posizione grosso modo corrispondente a come si doveva vedere dall'esterno della Cappella del Bono stando però nella Pinacoteca di Parma. Poi naturalmente il fedele è libero come diceva Sant'Agostino quindi si può spostare un po' a sinistra un po' a destra la può vedere più o meno angolata ma a questo punto l'articolazione che qui potete soltanto immaginare non pensate non penso proprio che si possa capire come funziona e come si articola corregio quando viene visto da come se si fosse nella navata però questo si può fare di fronte al quadro quando si va al museo ed è bene farlo perché allora si capiscono meglio tante cose illuminanti che sono nelle fonti e per esempio si capiscono alcune meravigliose e magiche parole che a questo punto non sono di Bellori ma sono di Francesco Albani Francesco Albani attraverso Malvasia Malvasia che scrive qualche anno dopo Bellori scrive nel 1678 mi pare cita Albani ricordando cose che Albani gli aveva detto lo cita talmente tanto che a un certo punto mette un virgolettato come se fosse una intervista e sentiamolo questo è l'autoritratto di Albani solo per farvi vedere chi sta parlando a quelli i quali non ammirano se non il vedere pittura fatta facilmente e non cercano più oltre io dico o povere dunque le opere di Correggio Tiziano e Raffaele ed altri le quali non dimostrano più oltre questi colpi di pennello perché se si mira il Correggio è tutta unione né si scorgono colpi siccome nella natura non si vedono le pennellate e se bastasse l'animo a qualche d'uno mostrarmi la faccia ad un uomo e che distintamente mi mostrasse ad una ad una le pennellate franche io mi obbligherei donarle una dobla per ciasche d'una perché la natura è di carne vera ed è tutta unione e non vi si trovano le confine le profilature sebbene conviene che sempre confini la testa con il campo ossia aria o oscurità d'architettura basta che le confini finiscano insieme tanto delicatamente che non si discernino contornate le guance sia il naso nemmeno il naso in faccia non si discerni i contorni con le guance non niego però che quando la maestra mano le viene in pensiero di fare un'opera di colpi che questi con la distanza non facciano il suo effetto delettando anche l'occhio da vicino perché la mano è maestra e sa quello che fa basta che la natura è tanto esquisitamente unita che è quasi inimitabile e a volersi accostare a quella è grazia che l'ha avuta il correggio Tiziano e Raffaelle che assieme ad altri hanno seguito la strada dell'esquisitissima unione e aggiustamenti di delicate confine per non dire di contorni che pare si soglia dire apparenti delineamenti Malvasia non aveva la possibilità di registrare Albani e sicuramente qualche parola può essere di fantasia o un'induzione sua ma Malvasia conosceva e capiva la pittura in una maniera totale e estremamente profonda e a questi pittori gli fa dire proprio queste parole riecco di nuovo la parola di Bellori unione e tante altre parole attribuite a Correggio che fanno capire noi che nel momento in cui il quadro lo togliamo dal suo spazio architettonico e lo mettiamo nel museo in qualche modo creiamo un linguaggio sovrapposto che rende molto più difficile capirlo e comprenderlo d'altra parte questa situazione che è così facilmente comprensibile nella cappella Sacchetti e che riesce a far riconoscere la propria qualità solo in quanto è ancora in San Giovanni dei Fiorentini perché se fosse portata in un museo o vista e sperimentata solo attraverso una fotografia la quale per capire la pittura non può che essere frontale così come frontale è sempre stata anche un'incisione si perde la ragione compositiva e il suo funzionamento questo era abbastanza evidente c'era una cappella per esempio a Roma che era una situazione architettonico spaziale non troppo dissimile di quella Sacchetti del 1621 ed è un caso piuttosto interessante perché era di vent'anni prima era la rappella Cerasi la rappella Cerasi che è nota naturalmente a tutti noi sappiamo che c'era una prima versione di Caravaggio del 1600 1600 1601 non fosse che in questa cappella l'altare il dipinto dell'altare maggiore era una tavola affidata a Annibale Carracci il quale Annibale Carracci la finisce e consegna proprio nel 1600 quindi Caravaggio che dipinge questo dipinto così composto nel 1600 1601 dove la parte più come dire irruenta e complessa della composizione è tutta sulla sinistra quindi la parte che dà verso l'altare andrebbe a trovarsi confinante con questa che invece è una composizione assolutamente frontale poi sappiamo che Caravaggio ha fatto altri due versioni quelle che attualmente sono a Santa Maria del Popolo questa versione della caduta di San Paolo e questa versione del martirio di San Pietro ma queste due versioni Caravaggio le realizza dopo e le pone nella cappella vari anni più tardi nel 1605 quindi può essere successo e non è una mia ipotesi è un'ipotesi che è stata fatta perfettamente a ragione da Luigi Spezzaferro da Alma Maria Tantillo da Maria Grazia Bernardini che si erano trovate a scrivere un libro che era la conseguenza di una campagna di restauri pensate proprio della Rappella Cerasi si era trovato a cambiare radicalmente composizione perché la frontalità della assunta di Annibale Carracci gli cambiava completamente l'idea compositiva d'altra parte guardatela che effetto architettonico che fa questa assunta dove la parte celeste è la parte che rappresenta la divinità è uno spicchio di cerchio d'oro che occupa solamente un terzo di tutta l'ampiezza del cerchio perfetto della divinità perché gli altri due terzi forse sono la reale architettura della finestra che va oltre il timpano dell'altare quindi di fronte a questa integrazione tra composizione pittorica e composizione architettonica e costruzione dello spazio è certo che l'orientamento compositivo della prima versione della caduta di San Paolo non avrebbe assolutamente fatto un effetto di unità come diceva Bellori ma sarebbe stato quello che un musicista chiamerebbe una zeppa e invece con se continuiamo il gioco e mettiamo come dire in prospettiva in angolo la caduta di San Paolo e il la crocefissione di San Pietro ecco che tutte le scelte compositive volumetriche di Caravaggio cominciano a funzionare anche lì comincia a funzionare la posa del cavallo comincia a funzionare la posizione in tralice del Paolo rovesciato e se per un caso come fu possibile in una occasione in cui questo quadro fu esposto ad una mostra ci mettessimo dalla parte dell'officiante del prete che vede il quadro dall'altare il quadro non funziona più si restringe come una fisarmonica rotta questo cavallo mentre invece se ci mettiamo dalla parte del 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 fedele allora funziona perfettamente e le radiografie le antiche radiografie che furono fatte dall'istituto centrale del restauro nella fine degli anni 50 avevano rivelato un pentimento ebbene quel pentimento lo vedete adesso non impazziamo come se fossimo alla USL per capire la radiografia di sinistra che cosa nasconde che cosa rivela guardiamo piuttosto perché semplifica il grafico a destra che riporta la prima versione oggetto di pentimento ebbene il San Paolo era quasi parallelamente sotto quel cavallo il quale fra l'altro non aveva neanche la zampa sollevata in questo primo pensiero è nel secondo pensiero che il San Paolo viene messo in un in una obliquità che assolutamente presuppone la realtà spaziale architettonica della cappella e la reale presenza la presenza direi esistenziale del fedele osservatore e lì solamente in una composizione che a quel punto cerca di aggredire la capacità di movimento lì allora Caravaggio ha l'idea di evocare un moto istantaneo del cavallo come quello della zampa nervosamente ribattuta per terra nel momento in cui il cavallo si placa dopo essere stato spaventato dalla irruzione della divinità e questo movimento istantaneo improvviso che a pagine quelle sì che sarebbe bello leggerlo ma non non lo faremo questa volta per per dire la capacità di Caravaggio di acchiappare l'istante nella caduta di San Paolo è così contrario invece da questo movimento fermo schematico geometrico e di un'architettura immobile della frontalità di Annibale Carracci nella Assunzione della Vergine e non è solamente una questione di composizione schematica è una è una questione di disegno profondo è una questione di diffusione delle luci e delle ombre è una questione di differenza del disegno e allora ecco quello che nella condizione di ruggine del lavoro amministrativo in un museo come dicevo all'inizio quello che si riesce a capire ed è il caso di dire che il museo come sappiamo tutti anche perché fra l'altro la storiografia lo sta ripetendo ormai da alcuni decenni il museo ha un suo linguaggio che si sovrappone e si impone sul linguaggio originario del pittore molto si perde così come si perde quando questo dipinto di cui così angolato cerco di evitare l'articolazione finisce in fotografia sulla pagina di un libro ciò detto il museo va assolutamente acudito conservato e anche amato basta saperlo e quindi quando ci si va immaginare che lo spazio non è quello che il visitatore guidato dall'apparato gestionale del museo che oggi raccoglie il 500% della attività e dell'attenzione di un suo direttore non è quello che l'apparato gestionale prevede o anche di una mostra prevede e organizza ma è quello originario basta saperlo e per saperlo non è difficile basta mettersi di lato ritornare spesso nelle chiese e ritornare spesso nel museo e quindi vuol dire che tutto va conservato e semplicemente le cose non vanno separate se la qualità fondamentale è questa che ci ha seguito durante tutta questa ora da Bellori a Malvasia che è l'unione e con questo vi ringrazio è sempre un piacere ascoltare Luigi che è sempre brillante e in questo caso anche illuminante perché ci ha portato a non soltanto a capire meglio Lanfranco ma proprio a capire meglio come dobbiamo muoverci e quindi sarà nostro compito adesso andare a vedere Lanfranco nelle chiese romane almeno quindi ce lo promettiamo per le prossime visite e volevo appunto ringraziare sia Luigi sia Caramel per questa serata che è stata veramente intensa e proficua vi ringrazio tutti per essere stati qui e ringrazio ancora i relatori e grazie grazie Grazie.